E io e te, Piaudina, andiamo verso casa di Anna Ok, io sono qui al Parlamento, sì, ti hai raggiunto la direttamente Va bene, guarda, per essere più vicino a te Guarda, io sto prendendo la metro, se vi interessa Ecco, bravo, vai a prendere la metro con Anna, vai Tanto non sei capace molto di fare quei Oh, ma che bello! Abbiamo l'osservatorio, eh, iniziato Forse l'altro è finito Oh, l'ho fatto, ma è già pronto? È messa di sì, perché c'è l'inaugurazione con tutte le torte qua dentro Guarda, è bello Procacalex E chi se ne frega, guardiamolo senza di lui Così non può dire, eh, non faccio io Tì, ma cos'è che si dica quella? Era una base segreta? Sì, base segreta della fondazione Spionaggio Dopo, tanto sono sicuro che non vincerò io queste elezioni Quindi almeno potrò fare lo spionaggio Oh, no, ma devi partire Parliamo di questa cosa No, 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 parliamo di questa cosa Secondo te, chi è che vincerà? Visto che tu pensi di non vincere Non mi sento di fare ancora un pronostico Però sinceramente non penso di vincere io